Allora, perché un Master in Lobby nella Sapienza? Innanzitutto perché la Sapienza è la più grande università d'Europa e una delle sue vocazioni è quella di diffondere competenze. Il Lobby è un'attività che pretende un gran numero di competenze, tutte ad altro livello. Nelle società di Lobby si fa monitoraggio legislativo, si studiano le norme, si immaginano emendamenti, ma intanto si studia il mercato, si studia la comunicazione. C'è una grande circolarità e una grande ampiezza delle competenze che sono richieste e l'università pubblica deve diffondere competenze. L'università pubblica deve anche diffondere opportunità. Il Lobby è un settore in grande crescita, tanti giovani sono interessati, il mercato si allarga e c'è bisogno che l'università pubblica diffonda l'opportunità anche a chi non è nato privilegiato e a secondi la propria vocazione di promuovere l'ascensore sociale. L'ultimo punto che mi viene in mente è forse più simbolico. L'università pubblica deve diffondere cultura e sicuramente intorno al Lobby, soprattutto in Italia, vi è un profondo problema di percezione. Bisogna sdoganare quello che, come abbiamo detto, è un settore che può dare molte opportunità ai giovani e che richiede grandissime competenze tecniche dalle secche di una visione malsana, oscura e che proprio per questo deve essere superata. Grazie. Grazie a tutti.